Oggi vediamo come suonare What Makes You Beautiful The One Direction partendo da un accordo di Do e utilizzando questi tre accordi Do Sol e La Mino quindi avremo qualcosa di questo tipo è enough Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground it ain't hard to tell You don't know Oh 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 You don't know you're beautiful Oh 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 That's what makes you beautiful L'unico cambio sia nel ritornello dove avete visto ho introdotto un accordo di Fa che è questo qui se non l'hai visto metti indietro il video torna nel punto in cui ho fatto il cambio e lo vedrai questo è un accordo di Fa fatto in posizione aperta quindi senza barret se non ti riesci puoi farlo col barret come ho già fatto vedere in un altro video io uso molto questo accordo di Fa aperto chiudendo cioè rendendo muta la sesta corda con il pollice perché suona bene ma il barret la classica posizione di Fa col barret in prima posizione va bene lo stesso ho un altro accorgimento per questa nozione che è molto semplice da suonare suonala in battere così do un plettrata alternata perché non suona bene questa canzone altrimenti verrebbe qualcosa del tipo invece devo fare qualcosa di questo tipo capito poi ovviamente sfruttando la tua creatività personale la puoi suonare veramente come cavolo ti parla